L'ex candidato repubblicano Mitt Romney si schiera con il suo avversario, i rabbini lo boicottano. I conservatori fanno appello all'unità contro di lui. Ogni attacco a Donald Trump produce consenso e alimenta la sua corsa inarrestabile verso la candidatura per la Casa Bianca. Il magnate newyorkese è riuscito a dividere l'elettorato e a comandare la corsa del partito dell'elefante. Un'ascesa favorita anche dalla mancanza di idee dei repubblicani, dice il portavoce della Casa Bianca, Josh Ernest. Linguaggio poco strutturato, con frasi brevi, una grammatica tipica dei ragazzi di 11 anni, secondo il Language Technologies Institute del Carnegie Mellon University. Questo uno dei segreti di Trump che ora ha anche dei leoni da guardia. Un gruppo nato sui social media per individuare e bloccare quelli che vengono definiti sabotatori di estrema sinistra.